Si chiama visitvaldichiana.it ed è il sito che racchiude l'offerta turistica nell'ambito della Valdichiana Aretina. Ne fanno parte i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano e Monte San Zavino. È un'esperienza fondamentale, è una certificazione a tutti gli effetti della rete dei sette comuni nell'ambito turistico dove appunto il portale ci deve dare l'input ad andare avanti a migliorare il nostro percorso. Il portale offre tantissime opportunità non solo di prenotazioni ma anche di visite online dei nostri migliori borghi, delle nostre eccellenze e evidentemente è un supporto molto importante al tempo d'oggi per ottimizzare il turismo. Noi la dobbiamo vedere come una certificazione che all'inizio può sembrare un impegno maggiore di noi tutti i sette comuni per applicarsi in tal senso ma poi alla fine come tutte le cose ci insegnerà a lavorare meglio e a stare più in rete. Rimane il fatto che ogni comune potrà fare la sua pubblicità e le sue esperienze ma sempre collegandosi a un ambito molto più vasto che la Valdichiana che offre pianura, collina, montagna ma anche percorsi trekking, percorsi religiosi e non solo. Offre musei, arte, storia, cultura e soprattutto il cibo che è molto apprezzato in tutto il mondo. I sette comuni adesso si apprestano a presentare la piattaforma alla BIT di Milano. Finalmente siamo arrivati ad avere un portale dedicato alla Valdichiana Rettina, ormai è un progetto che ha preso l'ultimo anno di tempo e per questa ripartenza abbiamo pensato bene di presentarlo in occasione di una stagione turistica che si preannuncia abbastanza interessante. Quindi c'è la sensazione di una ripresa, del flusso turistico anche dall'estero ma soprattutto vogliamo implementare anche la domanda interna. Questo portale elencherà tutti gli eventi della Valdichiana, non solo si potrà anche prenotare una struttura ricettiva e anche delle visite guidate.